Ingegnere Federzoni, durante questa prima edizione del forum Ingegneria 4.0 si è parlato di tecnologie emergenti, di BIM, blockchain, IoT. Secondo lei che cosa caratterizzerà l'ingegneria del futuro? Visto che siamo in tema di Ingegneria 4.0, sono convinta che la digitalizzazione ci aiuterà a governare la complessità. La complessità che ormai è la quarta dimensione del progetto. Ed è una complessità che prevede di avere gruppi sempre più interdisciplinari, ma anche e soprattutto di avere sempre una presenza di punti di vista diversi, perché la complessità si gestisce con tante professionalità e tanti generi. Quello di cui sono convinta è che all'interno della nostra società cerchiamo di monitorare e migliorare, è che sia fondamentale per avere buoni progetti riuscire ad avere un buon bilanciamento nei gruppi di progettazione di presenze maschili e femminili. La digitalizzazione sta aiutando questo processo perché permette di gestire meglio il tempo. Quindi una digitalizzazione al servizio della soluzione dei problemi tecnici complessi, ma una digitalizzazione anche al servizio di dare a tutti la possibilità di esprimersi, a prescindere da chi sono e dal genere a cui appartengono.